musica . . . . . . 3 secondi, dira Spasolievi, c'è quel tiro! Realizza Stefan Quattro in maniera per Francesco Giampa Valle in posto e Spasojevic Fronteggia, arresto, tiro E un missile Spasojevic la ruba Si vuole in contropiede Segna e subisce il fallo Stefan Spasojevic Un pallone d'oro E Spasojevic Tira in fondo Iscioltezza Spasojevic Non ci è consegnato Spasojevic Fa tutto solo La due realizza Questo Importantissimo Spasojevic che funziona, funziona alla grandissima la 2-2-1 Spasoyevic, come un treno, Stefano Spasoyevic, alta e salta per Rodrigo, ancora Spasoyevic fino in fondo, segna e subisce il fallo, chietto sul canesco per la difesa, la metina, Stefano Spasoyevic, Romeo carico per Giampa, con sbasso Spasoyevic, va su Stefan, elegante e convincente, Stefano Spasoyevic, Spasoyevic, realizza! Passa la palla a Rodrigo Monier sull'esterno, palla in posto Spasoyevic, dai e vai da manuale, realizza Rodrigo Monier, fino in fondo l'argentino, sbaglia, non c'è Stapin, Spasoyevic ce la riprende da Pivot, tira e segna, per Monier in transizione, 4 contro 1, Spasoyevic! Sfasoyevic 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 Sfasoyevic